AAAAAAAAAAAA! BAAAAAAA! Chi ci ha salvati? Barbacciaio? Sei tu? Ehi, sono io in persona! Barbacciaio, come hai fatto a tornare in dietro il tuo corpo? Beh, quel tipo, Rex, rischianto, può far tornare ogni cosa. per esempio ho fatto tornare me! A proposito... Dov'è, Wildstein? Lucy è stata creaturata da Rex! C'è lo benedetti! Aspetta, barbacciaio! Puoi liberare l'università! Ma certo! Questa è la Mises, lei viene, io ora sto qui a vedere come e che lavoro è stato fatto! Ok, va bene, va beh...